Pensiero del giorno. I miei cambiamenti di vita mi portano in nuove direzioni positive. Gli angeli sono con me a ogni passo del cammino. Sono aperto a ricevere il loro aiuto, la loro guida e la loro protezione. Sono eccitato dalle nuove possibilità sulla mia strada. Affronta i cambiamenti della vita. La manifestazione dei tuoi desideri molto spesso comporta dei cambiamenti nella tua vita. A volte il vecchio deve sparire per fare spazio al nuovo. Il tuo cammino spirituale ha creato una protezione intorno a te, assicurandosi che i cambiamenti che farai saranno per il meglio. Benvenuta novità. È la stessa energia dell'alba meravigliosa di un perfetto giorno di primavera. I cambiamenti che stai attraversando sono preghiere esaudite, anche se potresti non essere ancora capace di vederli in questo modo. Noi angeli siamo con te in questa transizione, tenendoti per mano a ogni passo. Puoi sempre chiederci indicazione e coraggio in ogni momento.